amici di youtube ben trovati da marco liguori notizia shock dell'ultima ora cata evviva questa notizia va a controbilanciare il tanto pessimismo che circolava nei giorni scorsi avevamo parlato di epilogo nefasto di questa vicenda c'è chi addirittura ha detto che cata fosse morta chi addirittura che i suoi resti fossero stati gettati nell'arno ma a gettare acqua sul fuoco ci ha pensato la madre di cata che istintivamente crede che la figlia sia ancora viva la madre di cata ha respinto le accuse che la vedevano aver omesso degli elementi importanti per le indagini solo il tempo ci dirà quello che è successo alla piccola cata qual è stato il destino della bambina peruviana che ricordiamo è scomparsa nel nulla dallo scorso 10 giugno il secondo canale di marco liguori vi terrà informati su questa vicenda con la speranza di fornire a breve una notizia felice amici youtube grazie per l'attenzione vi rimando al prossimo video grazie grazie